Il quadro di caso viene arrestato l'indomani dell'elezione del 2006 quando era sicuro che non aveva vinto per l'Urtonio ora non possiamo prendere e immediatamente uno vesco organizza una trasmissione porta a porta e questo spiega come avevano catturato Lorenzano e il vesco ha fatto e spiega a questo investigatore il gasco pure che Renato Lorenzano avevano catturato in Montagna dei Cavalli perché avevano individuato la casa della moglie che non è che si erano sposati il giorno lì erano sposati da fatte masse da gente e avevano individuato anche i figli che non erano in Australia erano a Corleone esce 7000 abitanti dove c'è un'anagrafe ed è che si va la McMoribili ... intestate a lui, je ne entrava il nome provenzano noi abbiamo fatti il dna no figli di bernarda *** surrounding la ragazza Ci abbiamo messo una telecamera davanti alla casa, l'altra, per mettere nella camera, ci sono i tempi che ancora non c'erano, e poi abbiamo identificato anche il fratello Germano di Bernardo Lorenzano. Dopo 45 anni che Bernardo Lorenzano era latitante, caduto il governo Berlusconi, è sbaglio, hanno identificato il fratello Germano di Bernardo Lorenzano, la moglie e i figli di Bernardo Lorenzano, e ci hanno messo la telecamera davanti alla casa, trovando questa casa che si è messa a grande Tokyo, dove ancora non c'era stato lo tsunami, che è col leone. E vediamo una cosa strana, che è uscito una volta il fratello, una volta il figlio, con un pacco in questa casa, che portava all'uscita del paese, lasciavano vicino una fontana. Poi passavano i giamanni, che era il cognato del fratello, che lo portavano a tutta parte e lo lasciavano. Poi passava uno per un pacero, mezzo piscine, che arrivava a questo pacco e cominciava a salire, per montagna, per questa terra, e arrivava un po' sulla sera del Beccolo, dove c'era la ricotta, e dove c'era una casetta. Allora, abbiamo iniziato dei servizi di osservazione in questa casa, e ci siamo sospettiti, perché la sera c'era la luce accesa, ma i nostri sospetti sono cresciuti, perché dopo alcuni giorni, sul tetto di questa casetta, hanno montato un'antenna della televisione. Seguendo questo pacco, in diversa direzione, ma che c'era in questo pacco? C'era anche lì, una mutante praticamente. Questi sono venuti a raccontarci che seguendo il pacco del deputante di Provenzano, dopo 45 anni, sono riusciti a catturare. Come se per tanto di Provenzano, per la prima volta, si fosse cambiato la mutante dopo 45 anni. Che già dopo 15 giorni, a quello dopo, con un po' l'effetto di fiuto, come si suol dire, a Corleone, l'avevano potuto trovare. E' così. E' così. E c'era un farro collegato, e beh, gli fa la battuta, la provocazione, ma nella copo di Provenzano sono stati giovati i suoi facsimili elettorali, che Provenzano, siccome è in questa maniera di risparmiatore, gli aveva messi in un parattolo diverso. Le elezioni tedesche erano fatte, non servivano più i fatti simili, e non è sembrato il diretto. E c'è un motivo, perché alle prossime elezioni regionali, siccome Cuffaro ha proprio continuato, se non ci fosse stata l'indagine di Cechi, come da volare, che è tutta raccontata, e Cuffaro ha portato la sentenza della restazione, Cuffaro ha portato in Parlamento, che ha denunciato, ha fatto le stesse cose che hanno fatto a Calanzà. Con la sola differenza che le indagini a Palermo e quelle delle di Galapia le hanno fatte dai magistrati forse un po' più bravi perché le hanno fatte a Calanzà e poi a Salerno. Diciamocelo chiaramente. Il fesco non ha tolto pure le tante. Lo dico molto perché la perquisizione alla procura di Calanzà perché è stata fatta? Perché la procura di Calanzà che ha tolto in questa giornata non ha fatto questa giornata quindi quelli non gli davano. Bene, io ero consulente in Salerno, io deporavo a Salerno, io e Alerno, perché non gli chiedevano a me? o no? O no? Come oggi mi sentai? Che bisogno c'è andare a fare la testa per andare ai giornali per fare scrivere al cavolo Volpe? No, no. Ecco. Ma per preparare le campagne elettorali ma per preparare la stessa. Va bene? così ti ho dato questa risposta. Ma me lo trovo. No, così ci siamo capiti. Capisce a me? Ci siamo sempre capiti. Quindi, tornando a Bernardo Polizano, Cuffaro lo interrompe e lui ci presta male. A un certo punto Cuffaro che si è incazzato con questa storia dei sardini elettorali nel rivolgersi a Vespa andate a guardare la testa dell'inizio e questa vale la pena anche gli streaming che si sono trovati. Anziché chiamarlo Dottor Vespa lo chiamo Dottor Mosca una cosa che voglia perché per assonanza ha pensato più dove si posa la mosca che la Vespa non si si posa. Quindi, diciamo, l'altro si risolto non direi sempre le cose belle. Trovito la schiena questa cosa. Io non vi dirò una volta perché mi piacerebbe rispondere anche a qualche posta domanda perché stasera abbiamo spaziato in lungo il lato. Vi ringrazio ancora.